Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale Benvenuti in questa nuovissima live con questa nuova avventura Abbiamo finito venerdì Resident Evil 2, è stato pazzesco Ho deciso di portarvi uno dei giochi della mia infanzia Uno dei giochi della mia infanzia che mi terrorizzava da bambina Ho giocato praticamente soltanto l'inizio e non mi ricordo niente Lomir viveva uno stregone chiamato Zarok Quest'uomo spietato e arrogante odiava i suoi concittadini per i loro modi semplici e pacifici Così si mise a capo di un esercito di demoni e partì alla conquista del regno Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, guidò le milizie nella battaglia contro l'orda infernale Ancora oggi i bardi amano cantare di come egli guidò la carica contro le forze immonde Di come i demoni cadevano davanti a lui come spighe davanti alla falce E di come infine, seppur mortalmente ferito, fu in grado di distruggere il malvagio stregone Quel giorno Fortescue entrò nella storia come l'eroe di Galomir E diede inizio a un'era di pace che durò cento anni Fino a quando lo stregone tornò Bene ragazzi, stavo dicendo proprio questo Che quando ero piccola, questo gioco mi terrorizzava E quindi lo giocai praticamente per pochissimo tempo Quindi conosco solo l'inizio di questo gioco Non conosco altro Poi la colonna sonora, spettacolare Quindi mi aspetto musiche spettacolari Vediamo un po' che succede ragazzi Nel frattempo chiaramente buonasera a tutti Benvenuti Abbiamo un castello Uuh ragazzi che figata però Nelle segrete, nelle fogne, dove stiamo scendendo? Vediamo Attenzione, il demone è tornato Colui che aveva... Che era stato sconfitto da Fortescue Che sei brutto Ora l'unico dubbio è come è fatto a tornare Dato che era stato sconfitto dal cavaliere Questo è un dubbio Mi ricorda Maleficent Sto tipo Avrà lanciato qualche maleficio? No Non che Che l'unico dubbio è Che l'unico dubbio è Chia oddio quindi sta prendendo il controllo del villaggio in poche parole di tutti gli abitanti la coppia che scoppia pure la bambina comunque quella bambina ricorda le sorelline di Bioshock oddio la mano della famiglia Adams bene da generazioni gli scudi salvano gli eroi dalle situazioni più spinose non dimenticarlo ok quindi mi sta dicendo Sabri usa lo scudo eccolo qua il nostro cavaliere quindi raghi tutto questo era per arrivare al menu di avvio meraviglioso quindi direi di cliccare su nuova partita ragazzuoli vediamo che succederà io già qualcosa me la ricordo dell'inizio ma vediamolo insieme chiaramente siamo al cimitero con tanto di zombie che bello Resident Evil mi segue ovunque gli zombie ormai fanno parte di me ecco qua ecco qua senza occhio oddio ragazzi eccolo che però si risveglia la cripta di Sir Dan Dan alzati e camminati è stata data una seconda possibilità di diventare un eroe credo stia stava dicendo vabbè mi sono persa la discussione è risuscitato Sir Daniel Fortescue Fortescue guarda l'eroe di Gallumier colpito a morte durante la prima carica il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volcare soldato in salvatore ma noi sappiamo la verità lascialo in pace il fato gli ha dato una seconda opportunità può finalmente dimenticare l'ignobile verità sconfiggere Zaro e entrare nella leggenda auguriamogli buona fortuna ragazzi stavo notando proprio questo il doppiaggio è quello originale di quello playstation 1 ragazzi strafiga questa cosa oddio ragazzi che strano che mi fa ok leggiamo il libro ok cercheremo di abituarci allora telecamera un po' fastidiosina devo dire leggiamo gli altri libri vediamo che informazioni ci danno i tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al tuo totale puoi usare le monete per acquistare oggetti dagli avidi mercanti garguglia ok andiamo qua ok ragazzi ok ok ovviamente presa vediamo l'ultimo libro quando sei pronto a lasciare la cripta dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala per sbloccare il cancello dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano che spunta dal muro lì accanto ok ragazzi tutto chiaro quindi per adesso non possiamo aprirla ci serve una pietra runica quindi andiamocela a procurare stavo vedendo un po' cosa fa con il quadrato c'è colpisce col suo stesso braccio ragazzi no vabbè comunque buonasera anche a Kyo Che Min buonasera benvenuto la cosa bella di questo medivolo è che è una sorta di remake come quello di Crash Bandicoot quindi prevalentemente grafico vero ragazzi vero infatti stavo notando la telecamera che è un po' fastidiosa però cercherò di abituarmici ok spade coltelli da lancio altro libro alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie alcune sono immediate altre richiedono un po' di tempo per caricarsi ed esprimere il loro vero potenziale ok tieni premuto cerchio per caricare l'arma rilasciala per sferrare l'attacco vabbè quando c'è un nemico però che lo faccia fare ora ok ecco la runa quindi questa la metterò per uscire dalla cripta però cerchiamo di esplorare bene allora questo lo saltiamo e ci andiamo a prendere la nostra arma prima apriamo il baule lo scudo di rame ecco il mio scudo chissà come ci si para ok ok è una sorta di bestiario ragazzi ragazzi prendiamo la spada ok per esempio scambiare le armi equipaggiate nella parte superiore sinistra dello schermo ah ok perché posso sia utilizzare la spada normale che i coltelli da lancio vabbè ma io mi tengo la spada normale ragazzi chi me lo fa fare quindi vediamo vediamo sto provando un po' i tasti oddio cosa ho fatto avevo riportato tipo la visuale su di lui ok ogni tanto fa bene girare la visuale perché vi rendete conto se state dimenticando qualche cosa strada facendo vediamo ecco ok sul mio giaciglio c'era qualcosa ponete meno male che sono tornata indietro guardate che schifo la visuale però ok bene 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 direi di proseguire ragazzi vediamo che danni combinerò ok altro libro trova zarok seguendo la sua diabolica odissea attraverso gallomir per scovare l'uscita in un'area ti basterà cercare la traccia maleodorante lasciata dalla sua melma ok quindi noi in ogni caso seguiamo la scia verde va bene comunque ragazzi durante il caricamento per adesso non mi da il tempo di finire di leggere quindi i consigli non li sto vedendo ok ragazzi che figata sta cosa c'è il percorso da seguire veramente come il primo crash ragazzi bellissimo quindi non mi posso perdere devo per forza fare il cimitero vai vediamo un po' ragazzi chi tipo ha giocato questo titolo durante l'infanzia quando eravate piccini e tu tu sei la mano però la mano non mi fa niente ce n'è più di una io cerco di gironzolare un po' prima allora ho un quadrato colpisco sì ecco ho sbloccato una nuova voce del tomo vabbè ogni nemico sconfitto probabilmente mi da una voce ma anche no non c'è bisogno anche no buonasera Gaia benvenuta sì ragazzi la mano della famiglia adams non mi non mi fa nulla zombie si oddio mi hanno attaccato tutti e due maledetti come avete usato ok qua cosa c'è niente ma queste porte le posso rompere no quindi basta semplicemente proseguire ecco un altro zombie ma mi attaccano mi caricano ok quella piccola luce che ti segue è un fuoco fatuo gli eroi del salone non dovrebbero intromettersi negli affari dei mortali ma quando hanno saputo che Sir Daniel Fortescue ha avuto un'occasione per riscattarsi beh hanno deciso di darti una mano con la tua scarsa percezione della profondità il fuoco fatuo girerà attorno ai nemici aiutandoti con la mira per gli attacchi a distanza ma ti indicherà anche le cose da guardare più da vicino ok quindi ogni tanto ragazzi devo osservare un po' il fuoco fatuo spero di ricordarmelo nel frattempo Mattia dice io l'ho giocato in tutte le sue incarnazioni l'originale su PS1 il remake per PSP e questo qua per PS4 quindi proprio sei stra informato Daniele dice il secondo è nettamente superiore praticamente evolve tutte le meccaniche buono ragazzi buono perché a questo punto proverò anche il secondo io conoscevo soltanto il primo devo essere sincera Gaia dice sono venuta e finalmente vedo un gioco diverso che non include roba spaventosa oddio Gaietta è un po' spaventoso anche questo però è in stile cartoon quindi non è realistico come l'altro quindi fa meno paura che dire ragazzi comunque io ci tenevo un sacco a giocarmi questo titolo tra l'altro questo è un regalo della mia migliore amica quindi ringraziamo la mia migliore amica per avercelo regalato così lo stiamo portando sul canale allora vedo che avanza piano piano una percentuale credo abbia a che fare col completamento del gioco però non mi ci voglio troppo fissare prima voglio ben capire di che stiamo parlando otro zombie ok devo cercare di pararmi non ho capito come si fa triangolo no così carico ah così carico un bel colpo ancora non mi hanno detto come si utilizza lo scudo cercherò di capirlo non lasciare che gli zombie ti fermino puoi curare ok vabbè qui mi curo buono ci facciamo curare perfetto qua ci vuole una runa che io non ho ancora eh runa della terra quindi dobbiamo cercare la runa prendiamocela con lui ok qua ci vuole un'altra runa runa del caos quindi dobbiamo gironsolare a cercarci io amo i giochi con questa grafica vero gaietta questa grafica è pazzesca è veramente molto molto bella ah guardate dov'è guardate dov'è la runa e chi l'aveva vista non l'avevo proprio vista vabbè mettiamola al suo posto ok chi altri ah ci sei anche tu ok sei morto si ecco la runa della terra ah no non è vero questo è un tesoro non è la runa tu sei un libro vediamo che mi dici non mi dici niente strano ecco a volte può essere utile guardare il mondo da un altro punto di vista vero ogni tanto prenditi qualche secondo per ammirare le bellezze della nostra gallomir tieni gli occhi aperti potresti trovare qualcosa di interessante vero ragazzi alle volte conviene fare backtracking tornare indietro giusto per vedere il mondo di gioco con un'altra prospettiva perché molte cose appunto sono nascoste in base alla prospettiva quindi bisogna stare attenti ecco la runa del caos quindi possiamo uscircene da qua mi ricuro quel po' di vita che ho perso e proseguiamo ragazzi oddio oh mamma aspetta aiuto oddio mio ma quanti siete aiuto ok meno male che c'è qua questa fonte di vita meravigliosa ok vediamo adesso di proseguire poi continuano le manine mi guardo un attimo indietro ma ci sei anche tu è stato bello evitarti però devo dire non so come fa ok non c'è nulla che possa sfuggire agli occhi di un angelo ok devo stare attenta a quella statua praticamente oddio oh mamma ok cerco di guardarmi in giro perché veramente potrei perdermi qualsiasi cosa ciao angioletto libro vediamo questo oggetto è il calice ogni volta che elimini un nemico con un'anima il calice si riempie un po' quando sarà pieno potrai raccoglierlo così sarai degno di entrare nel sacro salone degli eroi per ricevere una nuova arma lo puoi trovare un calice in ogni regione di Gallomir ma sono tutti nascosti o ben sorvegliati solo un vero eroe sarà in grado di raccoglierli tutti ok quindi man mano che uccidiamo dei nemici potrò prendere questi calici devi raggiungere il 100% nel calice oddio devo ancora capire che fare Mattia dice devi ucciderli tutti in ogni livello vabbè finora li ho uccisti tutti quindi devo continuare così semplicemente a ucciderli tutti e man mano si riempirà questo calice poi ce n'è un altro e anche tu ok e qua cosa c'è niente niente quello è un cancello chiuso si può aprire no quindi torniamo un attimo indietro comunque è troppo carino ragazzi sto remake veramente altro libro porta macabra vediamo che dice il libro ok quindi dobbiamo raggiungere il demone della vetrata quindi per adesso qui non possiamo proseguire quindi saliamo per di qua ti rialzi no non ti rialzi e mi insegui pure mi ha pure colpito come hai osato maledetto ci sei anche tu oddio sono ancora viva ok questa colonna sembrava tipo super importante invece solamente per bellezza va bene no problem andiamo eh oh mamma ora puoi raccogliere il calice ma non ho ancora ucciso tutti non può essere che già lo posso raccogliere ma intanto mi dice 100% ragazzi quindi posso tornare a prendere il calice no vabbè bellissimo di già apriamo tutto tu oddio oddio non li avevo visti ok ci sei anche tu ok da lui posso comprare vediamo scorte coltelli oddio si perché no lasciamo così torniamo dal calice ragazzi mi dice che lo posso datemi il calice perché non me lo date siete cattivi ah lei si girava ragazzi beh non c'è stato bisogno non c'è stato bisogno bastava girare la stata quindi anche quello cancello posso aprire si ragazzi che bello meglio tardi che mai l'ho capito zombie vi picchio dove siete eia non t'avevo visto però maledetto comunque ragazzi benissimo ho capito come funzionava quella statua dell'angelo ripeto meglio tardi che mai ho preso il calice quindi all'astra grande stavolta ce ne possiamo andare non avevo intuito la prima volta che servisse ruotare la statua quindi posso interagire con gli oggetti anche semplicemente colpendoli con la spada questa è una cosa che non avevo ben chiaro quindi così almeno comincio a capire qualche meccanica di gioco proseguiamo matti si purtroppo il tuo messaggio arriva sempre in ritardo viviana dice che poi sempre tu sei super carina quando giochi io sono incazzata a seconda di cosa gioco e con il classico tupo perché con 40 kg di capelli penso muoio ragazzi in teoria anch'io muoio di caldo però preferisco intanto dato che sto facendo la live essere almeno presentabile poi ragazzi off cam anche io non è che mi metto i capelli sistemati o me ne frega più di tanto anch'io ragazzi sto con i capelli a pazza cioè ci mancherebbe quando faccio le live per me è un po' come se stessi facendo i video su youtube quindi mi rendo un minimo presentabile anche se devo dire che spesso mi trovate in pigiama comunque un attimino accendo la luce perché vedo che ogni tanto mi fa andare scatti quindi spero mi vediate fluida aiuto no bellissimo sabre hai preso lei a sardo no ragazzi in realtà eia e aio lo dico pochissime volte ho imparato molte altre parole però in realtà le cose che tutti gli altri imparano quando vengono in Sardegna io le utilizzo veramente pochissimo quindi strano la domanda è sei già morto come fa a morire di nuovo ragazzi questa è una bellissima domanda bellissima troppo difficile aiutarti che non leggi mai ma in realtà non è così i messaggi mi arrivano in ritardo quindi magari quando tu mi dici qualcosa io quella cosa l'ho già fatta tipo ora che ho scoperto della statua della statua da sola l'ho scoperto casualmente poi tu me l'hai scritto ma io non ci sono arrivata a leggerlo quindi ragazzi è sempre un po' così arrivano con qualche secondo di ritardo i vostri messaggi fa così caldo che mi sono dovuto sbarbare completamente ragazzi io pure mi sono sbarbata completamente perché avevo caldo nulla ragazzi siamo in una nuova area quindi io direi di proseguire un po' paura voi mi parlate però benvenuto nel salone degli eroi dove i guerrieri più coraggiosi della storia trascorrono l'eternità festeggiando cantando e misurandosi a braccio di ferro se ti reputano abbastanza valoroso potresti convincerli a consegnarti una nuova arma ma certo che sono valorosa io no già ho acquistato vediamo leggiamo il libro è sbloccata una nuova voce del tomo di Gallem com'è che si dice la città ancora non mi ricordo leggiamo il libro se desideri rendere omaggio agli eroi posizionati davanti alle rispettive statue e attendi che i loro spiriti ti guidi ok 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 devo risvegliare gli spiriti vediamo parla con l'eroe poverino quindi mi regali il tuo arco la balestra ottimo ottimo ok qua c'è il calice che ho ottenuto meritatissimo direi quindi piano piano probabilmente sbloccherò ecco gli altri eroi quindi man mano che raccolgo i calici vedete ragazzi c'è anche il piano di su quindi man mano che otterrò i vari calici otterrò gli strumenti i poteri le armi dei vari eroi della battaglia di Gallomir ecco 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 ragazzi tutto chiaro tutto chiaro sia da una parte che dall'altra quindi non ci resta che proseguire ragazzi perché avendo un solo calice per il momento abbiamo potuto sbloccare soltanto la balestra quindi mi fai uscire bello devo andare via cioè devo andare via da dove sono entrata ragazzi credevo di poter altreparsare la porta che delusione ok vediamo sì ragazzi ho completato quest'area quindi si prosegue ragazzi quanto è figo sto gioco mamma mia dove siamo finiti la collina del cimitero quindi stiamo andando a recuperare la chiave dal da quel tipo dal demone com'è che l'ha chiamato il demone della collina non me lo ricordo più lui ha la chiave per il regno dei vivi quindi dobbiamo assolutamente andare qui vediamo che cosa troveremo ragazzi oddio zombie che mi tendono gli agguati pure bellissimo uh abbiamo già il demone no ma ora scappi tanto tu sei carogna maledetto devo imparare a utilizzare lo scudo ragazzi devo assolutamente imparare no ma la balestra è bellissima posso dirlo bella ok qua niente da fare leggiamo il libro alcuni ostacoli possono essere distrutti con le clave mentre altri con le armi perché non ti diverti a provare vabbè sicuramente potrò fare qualcosa però mi preme il proseguire per il momento ok là c'è uno zombie vediamo indietro spero di non dimenticarmi nulla questo muro questo muro no non si può rompere mi sono illusa aspettate guardate il fuoco fatuo come mi indica i nemici assolutamente utile vediamo di leggere l'altro libro fa attenzione o questi massi ti sbricioleranno le ossa spero che tu abbia uno scudo affidabile ricorda quando pari un colpo lo scudo perde un po' della sua resistenza ma è meglio che sia lui a subire danni bene ragazzi assolutamente si devo imparare ad utilizzare lo scudo ecco r1 per parare ok 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 finalmente lo so di qua cosa c'è però voglio voglio vedere mi diverte un po' troppo la balestra veramente un po' troppo ok 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 quindi posso distruggere questo masso vediamo ma non è che si fa distruggere ragazzi questo masso non mi pare no ragazzi assolutamente questo oggetto sicuramente lo potrò distruggere soltanto con un'arma più potente non è non è adesso il momento purtroppo quindi con r1 sì mi paro no ragazzi mi piace troppo la balestra un po' troppo tu ti apri non ancora sì le tombe le posso rompere ragazzi chissà se ogni tanto ci trovo cose questo assolutamente per il momento oddio ragazzi l'ho fatto esplodere ma non ho ottenuto niente quindi forse ho sbagliato non dovevo farlo esplodere boh altra vita ma distruggiamo tutto no non si fa distruggere vabbè questo è un mercante quindi vediamo di recuperare assolutamente i dardi della balestra ah ce le ho già al massimo quindi boh la posso utilizzare ok ora il punto è che devo salire ragazzi non mi devo far distruggere però e non sarà facile assolutamente perché ne arrivano ok andiamo per di qua ok torni indietro torni indietro ok faccio uno uno scrigno ho fatto una cacchiata ragazzi una cacchiatissima ho fatto ok aspettiamo qui che qua non mi oddio no alcuni girano però forse quelli rossi si no oh mannaggia no ragazzi ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato aiuto no mi sto facendo uccidere così no che delusione mi sono fatta colpire come una scema ecco di nuovo no maledizione sali ok non sono capace ok questi ce l'hanno con me se prendi la mazza puoi spaccare i massi la trovi in una cassa e bisogna vedere quale però chissà quale è sempre bene che l'avventuriero controlli attentamente ogni area vero 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 quindi non andiamo via per il momento voglio capire bene se è davvero la possibilità di trovare armi armi più forti in questo livello certo ci vorrebbe un modo per disattivare questi massi così io non rischio ogni volta di morire male non lo so forse l'ho disattivati parlando con i due guardiani della cripta forse non ne scendono più massi ma sembrerebbe tranquillo ecco cosa sei tu scudo di rame quindi andiamo a capire se mi son persa qualcosa e che cos'è vediamo qui eccolo vediamo altro scudo oh mamma ok non ho visto neanche che mostri fossero attenzione ragazzi ecco la clava con questa mi sa che posso distruggere il masso quindi bellissima questa cosa che c'è un sacco di backtracking non pensavo la clava è un'arma rudimentale ma efficace usala per schiacciare e bruciare ma fai vabbè ragazzi semplicemente devo stare attenta alla clava perché si può distruggere più facilmente io vorrei utilizzarla soltanto per rompere i massi così me ne vado a prendere quella quella roba che c'era dall'altro lato aspettate sono arrivata a leggere della mazza non del bastone comunque andiamo a rompere il questo qua vediamo dove mi porta visuale ragazzi non la posso spostare vabbè ciao aria fresca odiamo queste caverne vecchie e buie come pure il fetore delle streghe una volta una comunità di queste befane verrugose i fuochi empi ardevano tutta la notte mentre bollivano nei loro calderoni intrugli disgustosi hanno abbandonato il luogo anni fa ma il loro tanfo perle ha ancora l'aria e la rende irrespirabile ok ragazzi quindi questa è chiaramente la zona delle streghe come c'ha già oddio ma non posso rimettermi la spada no sono obbligata a utilizzare la clava vabbè ragazzi mi obbligano che ve devo di qua non c'è niente qua c'è lo zombie ammazziamo sto zombie ancora vivo sei e basta voi siete incarcerati per il momento come vi libero non posso come vi devo liberare qua c'è semplicemente un contenitore non lo so vediamo andiamo a guardare di nuovo la questa libreria magari si sposta si rompe si vediamo guida alle congreghe per streghe e appassionati di stregoneria una congrega di streghe raggiunge il picco della sua potenza solo quando tutte le fiamme sacre sono accese è risaputo che le streghe offrono aiuto agli avventurieri tuttavia esse sono di indole solitaria e devono essere invocate utilizzando amuleti o talismani occulti bisogna aggiungere che l'aiuto offerto dalle streghe raramente è gratuito spesso una strega chiede qualcosa all'avventuriero prima di concedere il suo favore se decidi di invocare una strega ricorda che sono molto territoriali se in un luogo vedi qualche segno di stregoneria significa che probabilmente c'è una strega nei paraggi e che può essere chiamata ok ragazzi le streghe qui sono amiche però ci chiedono qualcosa in cambio tutto chiaro vediamo cosa possiamo distruggere ma non si distruggono queste sto solo consumando la mazza ah guardate ha preso fuoco la mazza quindi adesso posso accendere quest'altra sbrighiamo ci sarà tempo ecco aiuto ora puoi raccogliere il calice ma prima fatemi ammazzare tutti questi che non ho più vita maledizione ok datemi la vita si talismano delle streghe tutto tutto datemi tutto 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 ecco il calice ottimo scudo ok ragazzi fantastico questo bottino è stato fruttuoso torniamo e diamo il talismano delle streghe non so dove devo mettere sto talismano sono rimasta qua mi ha dato il talismano e io non so dove lo devo mettere tutto molto vabbè mattia dice la strega non la chiamo in questo livello vedi matti me lo dovevi dire subito c'è un tempo e un luogo per ogni cosa ma non ora cheat professor rock grazie chris fantastico quindi ragazzi ho perso tempo inutilmente me ne potevo già andare perché la strega non la posso chiamare adesso benissimo quindi devo tornarmene indietro ragazzi non ci faccio niente qua dove me ne vado di qua ho sprecato una fiala della vita vabbè mi vergogno prova così sabri strega mangia colore che colore vuoi bellissimo comunque matti quando mi ha scritto leggi per dindirindina guarda che l'ho letto subito il messaggio nel momento stesso in cui mi è arrivato quindi ricordati che non sono io che leggo i tuoi messaggi dopo mi arrivano dopo quindi abbiate un po' di pazienza ok ragazzi niente me ne vado da questo posto non ci sto più a fare niente qui andiamo via ho sprecato una fiala della vita pazienza ok vediamo cosa ci danno con un secondo calice ok andiamo a vedere subito che mi dici tu? torno dalla battaglia forse ti ritieni già un valoroso ma solo un vero eroe merita un posto nel salone degli eroi eh sì ragazzi grazie mille per i consigli che mi state dando mattia dice torna al primo livello che ricarichi facilmente la vita quindi grazie ragazzi per questo consiglio magari off cam certo mi rifaccio il primo livello così accumulo un po' di vita vuoi parlare di nuovo con me tu? ma se già mi hai dato la palestra cos'altro mi vuoi dare? sapevo che ci sarebbe voluto più di un esercito di morti cattivi per fermarvi capitano ho qui qualcosa che potrebbe aiutarvi nella vostra impresa che mi dai? mi la regalo anche se non ho la più palida idea di che cosa sia un'altra bottiglia della vita beh non ci spudo dato che quella l'ho persa male ma mi dai soltanto questo? ragazzi ma è un tirchio ma un tirchio tirchio ragazzi c'è mi ha dato soltanto un'altra cosa della vita con con un altro calice che gli ho riportato no ragazzi delusissima dove si va? uh si sale ecco il mausoleo in cima alla collina assolutamente qui dovremmo trovare la chiave per il regno dei vivi vediamo se è vero ok muore dalla voglia di vederti fantastico ragazzi sarà un amico il signore del mausoleo io spero ok leggiamo il libro prima stai entrando in un luogo di dolore girano molte voci sui terribili atti compiuti nelle catacombe segrete sotto questo salone ok adesso ho paura adesso ho un po' di paura allora mettiamoci la la balestra che se ci sono amici lontani li colpiamo a manetta ecco girati ok nuova voce nel tomo visto che sbucano all'improvviso oh mamma dove sei sbucato dove sei andato ragazzi assomigliano ai nemici di Anastasia chi di voi l'ha visto Anastasia oddio sono caduta nella tomba ma scappano poverini hanno paura poverini no questo non lo riesco a colpire è bloccato poverino ok un'altra clava mi danno si hai trovato la clava vabbè non c'è problema però te ti devo uccidere mi dispiace non ti posso lasciare lì amico perché mi serve per il calice ok abbi pazienza eh vediamo Manti si è lasciato qualche tomba indietro eccolo ma vogliono qualche colpetto eh questa è dorata e da qui non si risveglia nessuno non vorrei che in una di queste davvero c'è qualche mostriciattolo boh per il momento non sembra ragazzi ti apri tu sei completamente chiusa cosa devo fare per aprirti può essere che utilizzando la clava rompo qualcosa ragazzi boh proviamo eh si cosa ti risvegli io romperei anche le altre fiala di energia non ti rompi più si e beh le rompiamo tutte ormai tre colpi vuole non c'è problema ok rimettiamo la spada come arma principale perché quella la lasciamo solo quando ci serve allora quel cancello rimane chiuso quindi io mi butto qua e ho fatto bene ragazzi ok leggiamo il libro leggilo attento ai demonietti dalle mani lunghe se vi lasci fare questi ladruncoli sono capaci di ridorti in mutande ok li devo ammazzare subito allora agli oggetti urbati ai mercanti garguglia buonanotte Gaia buonanotte grande Cristo che conosce Anastasia stavo già cantando la canzone feste balli fantasia e ricordo di sempre chi non ha visto Anastasia ragazzi andate a vederlo immediatamente perché è meraviglioso e questi mostriciattoli mi ricordano tantissimo il pipistrello cattivo quindi andate a vedere Anastasia e poi mi direte ok ok allora bene non facciamoci intimidire da questi la balestra ce l'abbiamo messa quindi colpiamo sta roba e colpiamo con la balestra non dobbiamo essere avidi con questi mostriciattoli perché questi ci rubano tutto ok cosa rompiamo prima rompiamo questo di sinistra però è bloccato da altri vetri proviamo ad aprirli tutti ecco vieni qua questi spuntoni non so se si possono togliere in che modo sinceramente ah guarda si tolgono ok ok però andiamo prima dall'altro lato perché lì tanto c'è il cancello chiuso andiamo per ordine ok oh mannaggia ok ok oh mannaggia siete tanti adesso ok runa della terra poi si sta distruggendo tutto quindi dobbiamo scappare quello mi sta inseguendo ok benissimo siamo salvi proviamo di qua ti metti qui? si vediamo però devo scendere aiuto ecco facciamo così come la balestra è stata rubata no ridatemela hai recuperato la balestra maledetti trofeo ragazzi guardiamo finalmente il primo trofeo vediamo eh recupera un'arma rubata da un demonietto ragazzi meraviglioso io non vedo l'ora di scoprire tutto perché sembra strabello veramente il demone della vetrata è il signore del mausoleo la sua anima maligna è gelosamente custodita in un gelido cuore di vetro ok puoi trovare questo mostro glaciale sotto il mausoleo sarà circondato da un velo di oscurità ok tutto chiaro tutto chiaro ok ok qua vuole la runa del caos quindi dobbiamo per ora andare via saliamo da queste scale e questa porticina niente non ci posso entrare proviamo queste scale oh mamma ecco lo sapevo che mi rubava qualcosa maledetto ok qua è tutto chiuso quindi devo entrare in una delle porte proviamo questa no non ci passa benissimo allora questa uh runa della luna questo si distrugge no oh mamma si è aperta da sola ragazzi che cringe ok eccola attenzione l'aspirante fantasma poverino quindi dobbiamo provare a fargli suonare qualcosa di diverso ok abbiamo la runa del caos ci prendiamo anche queste fiale di vita qua me ne hanno date veramente un botto devo dire tu che mi dici ok da te posso acquistare qualcosa ma si va bene anche così ragazzi ok quindi per adesso da lui non possiamo fare niente non possiamo neanche parlarci poverino vabbè abbiamo la runa del caos quindi torniamo dove eravamo prima sicuramente lì troveremo un modo per aiutare il signor musicista scendiamo eccoci ok dobbiamo spostare questo blocco come così ok tu che mi dai altri coltelli ecco qua sciogliamo il cuore ottimo ok diamoci da fare si torna indietro comunque ragazzi sono bellissimi questi livelli veramente veramente belli vediamo che cosa ci aspetta ragazzi se passa magari dalla porta ok ok tu che cosa vuoi chi sei attenzione eccolo boss oh mamma ok scappa malissimo oddio non l'avevo mica vista sta cosa ok come lo prendo come lo colpisco oh mannaggia il cuore il cuore il cuore oh mannaggina già ho pochissima vita ragazzi poi ci muoio eh ve lo dico qua ci muoio male ok come lo colpisco per forza con la con questa forza no 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 togliti togliti mi ha bloccato ragazzi mi sa che qua almeno una fiasca la perdo ragazzi una fialetta fiasca come la volete chiamare devo un po' evitarlo ragazzi l'unico momento in cui posso colpirlo è quando apre il cuore ecco adesso vai ecco è a metà vita dai ragazzi ancora dai escilo ecco forza no ragazzi ho sbagliato mannaggia ho sbagliato ho sbagliato perché premevo triangolo quando non dovevo quindi abbiate pietà ragazzi mi sono distratta dai fai un altro saltino esci il cuore ok dai ok ok allora eri veramente veramente facile devo dire potevo evitare di perdere un'ampolla ma considerando che sto imparando adesso ragazzi va bene mi hanno dato anche un trofeo anche un trofeo vediamo sconfiggi il demone della vetrata nel mausoleo in cima alla collina ripeto raghi potevo farcela oddio me ne stavo andando no 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 non me ne devo andare e potevo farcela anche diversamente non lo posso aiutare lui ragazzi che tristezza ragazzi voglio aiutarlo come faccio ad aiutarlo voi lo sapete mi sono dimenticata di qualcuno ragazzi mi è triste ma questo qua si apre forse qua non c'ero andata eh no vero ragazzi questa parte mi mancava ok ora posso raccogliere il caldo benissimo ragazzi mi era sfuggita questa parte ok tu muori anche per cortesia ok oddio l'ho spartito scappa fuggire comunque adesso si ragazzi adesso si completato al 100% quindi mi ritengo stra soddisfatta raghi per stasera raggiungiamo il salone degli eroi raggiungiamo il salone degli eroi curiamoci visto che è qua ragazzi stra bella stra bello questo livello andiamo subito a restituire lo spartito al povero musicista tieni amico tieni tieni è tutto tuo ecco qua ottimo e ci da il nostro calice ragazzi stra figo questo livello esco da qui totalmente soddisfatta mattia dice ma che culo che hai a me aveva fatto ripetere tutto eh sì eh sì sono stata fortunata chris dice ma già finito sì ragazzi è già finito anche questo livello devo dire che ragazzi il gioco si fa divorare si fa letteralmente è un piacere è un piacere da giocare ecco il salone degli eroi grande magazzino se cerchi le occasioni reccati al piano terra se invece puoi spendere di più vai al piano superiore lì ce n'è per tutti i gusti bene vediamo quindi che cosa possiamo sbloccare adesso potremmo sbloccare una delle scale oh qua mi devo mettere uh guarda mi danno qualcosa di interessante ovviamente sembra che quel furfante di zaro sia ancora vivo credevo che lo avessi fatto fuori non importa sei un veterano consumato fagli vedere di che pasta sei fatto immagino che johnny lo zombie ti darà del filo da torcere più che in passato come stai a darmi tieni prendi il mio martello da guerra lui smacca tutto quello che tocca e non si rompe mai come un randello fantastico esatto ragazzi che bello voglio questo pre bellissimo ragazzi ho il martello ragazzi che figata che figata sono stra felice di questo gioco ragazzi è stra bello comunque ragazzi qua lo so che volete che continuo anch'io ragazzi voglio continuare però voglio assolutamente lo sapete ve lo dico sempre ci tengo alla serietà cioè ci tengo che quello che io dico venga rispettato perché poi comunque ci sono anche ragazzi che magari si organizzano per vedere le mie live sapendo che inizio alle nove e mezza e che sta alle 23 quindi più di un'ora e mezza ragazzi non faccio veramente quasi mai tranne che appunto sono giochi dove ci sono scene cose da completare allora ovviamente resto un po' di più per completare la diciamo il pezzo chiamiamolo così che dire io sono felicissima di questo gioco spero che a voi piaccia adoro questo stile adoro questo gameplay è veramente un tuffo nel passato penso ragazzi che lo platinerò perché è lo stesso mood del primo Crash Bandicoot avevate perfettamente ragione quindi ragazzi con questa facilità di gameplay è un piacere platinare i giochi quindi ragazzi sono stra felice Vivi mi dice io lo vedo per la prima volta con te Sabri ed è fantastico ragazzi io sono felicissima anche quando vi faccio scoprire dei giochi e quando proprio li vivete insieme a me quindi io sono stra felice anche di questo ragazzi Mattia mi dice si è facile da platinare quindi ragazzi è platino assicurato sto gioco spero di farlo con voi in live così è anche più divertente nulla io vi ringrazio per aver guardato questa puntata vi rimando come sempre al video di youtube di domani e con la prossima puntata di Medieval mercoledì sera alle 21.30 ragazzi perché ho fatto il sondaggio e ufficialmente è rimasto l'orario delle 21.30 quindi credo che per il momento vi faccia comunque comodo le 21.30 come orario se dovessero esserci cambiamenti chiaramente lo vedremo man mano durante l'estate nulla io vi adoro vi abbraccio fortissimo vi ringrazio per essere stati con me chiaramente vi invito a iscrivervi se non siete ancora iscritti vi invito ad abbonarvi se non vi siete ancora abbonati vi ringrazio vi mando un bacione andate a guardare la mia sigla e ci vediamo alla prossima ragazzi buonanotte a tutti grazie 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 grazie